Ciao a tutti, Roberto di Smart Fanology, con me c'è Oppo Reno 10 Pro 5G, un telefono lanciato sul mercato italiano insieme ad Oppo Reno 10 all'inizio di luglio del 2023, un telefono che cerca di colmare il vuoto lasciato da Oppo Find X6 e la linea Find X6 in generale che non è stata introdotta sul mercato italiano, forse per facilitare l'ingresso di Oppo Find N2 Flip lanciato invece appunto nel mercato nostrano, è un telefono che mi piace chiamare come Portrait Phone, infatti ha un comparto fotografico piuttosto articolato abbiamo una fotocamera principale e una fotocamera destinata ai ritratti da 32 megapixel che produrrà delle immagini di buona qualità con una buona sfocatura ma ne parleremo tra pochissimo, un telefono che può essere accostato tranquillamente ad un top di gamma pur costando in realtà quasi la metà, ma io non vi dico altro, vi do appuntamento subito dopo la sigla per tutte le mie opinioni la sessione di Oppo Reno 10 Pro 5G Prima di parlare dello smartphone facciamo un rapido unboxing, andiamo ad aprire la confezione di Oppo Reno 10 Pro 5G al suo interno o non, troviamo almeno nella nostra confezione la cover di protezione ne parleremo tra pochissimo quando parleremo del design dello smartphone abbiamo il classico cavo USB-A USB-C e un alimentatore da 80 W un unboxing davvero veloce, non manca niente se non appunto la cover di protezione che sarebbe potuto essere utile considerando il materiale del dispositivo abbiamo vetro a ambo le parti e anche la sua impugnatura ma ne parliamo proprio ora parlando del design dello smartphone il telefono arriva nelle dimensioni di 162,3 x 74,2 x 7,9 mm di spessore e pesa 185 grammi, un telefono con un peso ben distribuito con una facile impugnatura grazie anche al display un po' ricurvo e ad un design studiato affinché si possa maneggiare con cura anche con una sola mano ma la fotocamera sporge di qualche millimetro per cui quando poseremo il telefono su di una superficie piana potrebbe traballare un po' non è scivolosissimo nonostante il vetro della parte posteriore ha questa texture molto elegante molto sobria anche il modulo della fotocamera è stato ripensato a livello di design si discosta molto dagli altri componenti della famiglia Reno abbiamo finalmente una maggior personalità ma anche un impatto visivo molto molto piacevole e anche molto più maneggevole avrei preferito l'utilizzo di una cover di protezione per aumentare il grip per aumentare la resistenza del telefono però si potrà acquistare a parte abbiamo invece la plastica per quanto riguarda la scocca un telefono che non soffre le ditate nella parte posteriore nella parte anteriore abbiamo una cover preapplicata per proteggere il vetro mentre la plastica del telaio soffre un po' di più le ditate come potete vedere in questa parte continuiamo a parlare del design abbiamo questa colorazione grigia molto elegante è molto trasversale che vandrà bene per chiunque c'è anche la versione viola molto più accattivante molto più giovanile ma di certo non adatta a tutti però è molto piacevole e personalmente la preferisco rispetto a questa grigia più seriosa ma continuiamo a parlare dello smartphone andiamo a vedere un po' le porte e gli ingressi abbiamo lo slot per le due SIM il microfono, la USB Type-C lo speaker di sistema di cui andremo a ascoltare tra poco le capacità ecco una cosa che non ho apprezzato è il fatto che l'audio sia solamente mono su un telefono di questa fascia di prezzo e di questo posizionamento avrei preferito trovare un audio stereo l'audio è di buona qualità comunque con un livello di volume elevato però non supporta adeguatamente il display che invece è davvero di una buona qualità ma ne parleremo tra pochissimo abbiamo nel profilo destro il tasto di accensione con questo verde che richiama il logo Oppo un bilancio del volume mentre nella parte superiore abbiamo la porta a infrarossi ed è liscia la parte sinistra ma parliamo dello schermo Oppo 11 Pro si avvale di uno schermo curvo AMOLED da 6,7 pollici con un miliardo di colori la frequenza d'aggiornamento è da 120 Hz la luminosità è 250 nits non è al pari di altri dispositivi ma è molto luminoso e potrà essere visionato il materiale anche sotto la luce diretta del sole senza troppi problemi abbiamo il supporto HDR 10 Plus una risoluzione da 2412 x 1080 pixel un display di davvero alta qualità andiamo a vedere un attimo le impostazioni è molto personalizzabile abbiamo appunto la luminosità che può essere anche automatica ma possiamo scegliere i colori vivace, naturale, modalità pro oppure si può impostare a piacimento la temperatura del colore abbiamo il comfort visivo per non affaticare gli occhi e abbiamo il miglioramento dei colori video come già visto su altri dispositivi Oppo che si possono utilizzare con determinate app abbiamo infatti il motore Ultra Vision o la modalità video HDR luminosa la velocità di frequenza di aggiornamento dello schermo può essere automatica come di default oppure alta a 120 Hz oppure standard a 60 Hz per risparmiare la batteria di cui parleremo tra poco il telefono nel display offre anche la modalità di sblocco che può essere tramite impronta digitale che può avvenire in modo molto rapido bisognerà abituarsi alla posizione in cui è situato il sensore di impronte digitali perché non è subito intuitivo è davvero al di sotto rispetto al display e le prime volte potrebbe essere necessario un po' di tempo prima di abituarsi abbiamo anche lo sblocco con il volto che come vedete è altrettanto rapido ed efficace sopra alla fotocamera anteriore abbiamo una ridottissima capsula auricolare che permette comunque un ascolto molto buono dell'interlocutore andiamo a vedere un po' come si comporta l'audio grazie a tutti e dopo aver parlato dell'audio e del video continuiamo a parlare questa volta delle specifiche hardware di Oppo Reno 10 Pro mosso da Android 13 con la ColorOS 13.1 abbiamo lo Snapdragon 778G 5G supportato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage non c'è la possibilità di espandere la memoria ma possiamo espandere la RAM fino ad un massimo di 24 GB sfruttando la memoria interna le prestazioni sono fluide, il telefono è performante, si può giocare anche con giochi oppure utilizzare app impegnative senza problemi andremo a riscontrare un surriscaldamento nella parte posteriore del dispositivo ma niente di drammatico abbiamo inoltre una batteria da 4600 mAh, batteria che permette l'utilizzo di una giornata piena ma non certo di due giorni questo ovviamente è riferito ad un utilizzo standard o comunque mediamente intenso la giornata lavorativa è sicuramente coperta ma non si potrà andare oltre ai due giorni abbiamo una carica da 70 Watt che è certificata TUV per la ricarica veloce e sicura infatti abbiamo un chip, infatti Oppo Reno 10 Pro eredita la battery health engine che abbiamo visto sulla scorsa edizione della serie Oppo Reno 8 che è un sistema in grado di monitorare e riparare in autonomia gli ioni di litio per garantire l'80% delle prestazioni anche dopo 1600 cicli di ricarica secondo quanto riferito da Oppo che è circa il doppio rispetto agli standard di settori abbiamo inoltre un sistema di sicurezza a 5 livelli certificati 2 Rayland che permettono ad un chip dedicato, il SuperVoc S, di assicurare un passaggio di energia che non sovraccarichi la batteria al fine di preservarne le performance abbiamo come già detto inoltre il sensore infrarossi, l'NFC Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 e GPU Adreno 642L abbiamo visto dunque come si comporta Oppo Reno 10 Pro nel gaming, in particolare con Unreal Racing 3 abbiamo potuto constatare un gioco fluido, dopo un po' si surriscallerà nella parte posteriore e un'altra cosa da riportare è che se non si fa attenzione si soffoca l'audio per via della posizione dello speaker sulla parte inferiore del telefono ma passiamo finalmente alla parte fotografica che è quella più importante di Oppo Reno 10 Pro 5G che mi piace definire un portrait phone per via delle sue caratteristiche votate proprio al ritratto partiamo dalla fotocamera anteriore da 32 megapixel passiamo alle 3 fotocamera posteriori abbiamo una fotocamera da 50 megapixel principale con stabilizzatore ottico e apertura f1.8 la fotocamera tele per il ritratto di 32 megapixel con f2.0 e zoom ottico 2x purtroppo non abbiamo lo stabilizzatore ottico su questa fotocamera e infine la fotocamera grandangolare da 8 megapixel con lente da 112 gradi e apertura f2.2 peccato dunque la mancanza dello stabilizzatore ottico sulla fotocamera da 32 megapixel in generale sono tutte buone foto come potete vedere in sovraimpressione bene di giorno si può zoomare fino a 2x con lo zoom ottico oltre digitale si potrà vedere un lieve calo della qualità certo è che ci si potrà sbizzarrire ovviamente di giorno per ottenere immagini di gran lunga di buona qualità anche di sera in realtà si potranno ottenere delle ottime immagini con il dispositivo anche se appunto i ritratti con la scarsa luce non saranno di altrettanto grande qualità la fotocamera che soffre un po' di più di sera è la grandangolare cambia un po' il bilanciamento del bianco tra una fotocamera e l'altra però la linea generale è che le foto di sera sono molto buone bene video peccato però che ci si fermi a 4k a 30 fps ecco su un telefono di questa fascia di prezzo e di queste caratteristiche votate alla fotografia avrei preferito trovare almeno i 60 fps bene anche la fotocamera anteriore si otterranno dei buoni selfie per quanto riguarda i ritratti molto bene la sfocatura si potrà regolare in autonomia ho notato che c'è una sfocatura quasi progressiva quasi come quella che si trova sul reflex anche se in alcuni punti si nota che in realtà è una sfocatura artificiale perché non sempre l'algoritmo ha una sfocatura che è assimilabile ad una analogica però devo dire che la qualità è alta è il soggetto della foto una volta inquadrato una volta scattata la foto è ben definito si stacca molto bene dallo sfondo insomma bisognerà fare un attimo di attenzione negli scatti ma il risultato finale è senza dubbio di grande qualità è un telefono adatto ai ritratti in particolar modo quando c'è molta luce e farà sicuramente divertire chiunque abbia a cuore i ritratti che siano i propri figli che siano i propri nipoti i propri cagni o i propri compagni e compagne insomma è un telefono che farà davvero divertire con buona pace dei soggetti fotografati insomma un reparto fotocamere molto divertente che si rivolge in particolare a chi ama scattare ritratti non è un camera phone è un telefono che si rivolge a chi vuole scattare buone foto senza dover impagnare una cifra molto importante quale quella prevista in genere per i camera phone è un portrait phone è un telefono che può essere utilizzato dunque per scattare buoni ritratti per avere prestazioni simili ad un top di gamma il chipset che abbiamo su Oppo Reno 10 Pro infatti non è dei più recenti però permette tuttora delle performance di ottima qualità come abbiamo visto infatti nel corso della recensione cosa dire dunque di Oppo Reno 10 Pro il telefono è stato lanciato quest'estate ad un prezzo iniziale di 649 euro in realtà è stato agli inizi venduto in bundle con uno sconto adesso si può trovare a 649 euro praticamente ovunque un prezzo piuttosto congruo rispetto a quanto offerto dal telefono nonostante appunto non sia perfetto peccato che non abbia il 60 fps peccato che la seconda fotocamera non abbia lo stabilizzatore ottico però è anche vero che è un telefono molto versatile e molto molto performante che si rivolge principalmente ai content creator ma anche a chi ama scattare foto di buona qualità bene che non ci sia la fotocamera macro perché è quasi ovunque praticamente inutile ad ogni modo ho apprezzato molto la linea Reno 10 un design finalmente molto più accattivante e sobrio allo stesso tempo molto più maneggevole un telefono affidabile perché si potrà arrivare a sera nonostante non offra due giorni di zonomia e soprattutto dei contenuti molto belli a livello fotografico ma anche a livello di gaming è un telefono che offre grandi prestazioni grazie anche al display peccato infine l'audio che è solo mono per la recensione di oggi è tutto vi ringrazio per essere stati con me vi do appuntamento al prossimo video se questo vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e commentate il video vi ringrazio per essere stati con me vi do appuntamento al prossimo ciao da Roberto di Smartphoneology ciao